Alcune scosse di terremoto hanno colpito l'Italia centrale e allora ci siamo chiesti, noi siamo pratici, siamo adulti, abbiamo già vissuto questa esperienza, ma chi non l'ha vissuta cosa deve fare eventualmente avvenga una scossa? Chiaramente ci sono tutta una serie di cose da fare e alcune da non fare, per esempio io stamattina la prima cosa che ho fatto, ho telefonato a mia nipote che vive tra Pesero e Urbino, a Gilda, abbiamo fatto la stessa cosa, però l'ho fatto con un leggero ritardo perché una delle prime cose che bisogna sapere è quella di non intasare i telefoni, le linee telefoni, perché è ovvio, perché se qualcuno poi è rimasto coinvolto nel sisma o qualcuno anche con la paura, con il timore, anzi preso dal panico, diciamo la verità, se fatto male da solo deve avere la possibilità che le linee telefoniche siano libere per chiamare i soccorsi, non farsi prendere dal panico, perché quando ti prende il panico, anche se c'è una piccola scossa di terremoto, tu sei portato a fare delle attività in consulta che ti possono procurare danni, come qualcuno... cercate di mantenere la calma, io lo diciamo, non è facile, però come si fa per ovviare a questa problematica del panico? Di tanto in tanto si prova in casa le attività da svolgere se nel caso, se si capita una scossa sismica, perché questo ti dà la possibilità poi automaticamente di muoverti e seguire le regole, mettersi sotto un tavolo, mettersi sotto, perché quando inizia una scossa di terremoto, la prima cosa che non dobbiamo fare è precipitarsi verso le scale, questo penso che lo sappiamo tutti, perché nel caso che la scossa sia di grossa intensità, le prime cose che vadano via cadono le scale, magari resta tutto all'impiede e corriamo il rischio poi di catapultarci giù e di precipitare, quindi questa è la prima cosa, volente o non volente dobbiamo gestire il panico, per strada è chiaro che dobbiamo allontanarci dai fabbricati, perché i cornicioni sono i primi a venire giù nel caso che ci sia a crollare nel caso che la scossa sia di forte entità e di lunga durata, perché ci può essere anche una scossa di piccola, di grossa entità, ma di effimera durata e potrebbe sicuramente non procurare danni, quindi bisogna in tutti i casi prevenire, allontanarsi dai fabbricati, allontanarsi da alberi, allontanarsi anche dagli animali che in quel frangente potrebbero assumere atteggiamenti aggressivi.